tutti gli spettatori del desert trip sono sicuramente dei grandi appassionati di musica per cui gli organizzatori non hanno voluto mancare per loro una tenda riservata ai vinilmaniaci in questo records tent o record shop ci sono infatti 45 giri 33 giri da collezione ma non solo insomma tutto quello che lo spettatore del desert trip vuole portarsi a casa come ricordo sia degli artisti ospiti delle tre serate che in generale di tutta la classica musica della storia del rock quindi facciamo un salto dentro diamo un'occhiata che cosa ci riserva come sorpresa il records store della desert trip un salto di più un salto di più